buongiorno buongiorno a tutti io sono sabrina onano performance vi do il benvenuto a questo webinar che il secondo webinar organizzato nel ciclo dati territoriali strumenti per migliorare l'accesso all'utilizzo dei dati il webinar fa parte di un ciclo di quattro webinar il precedente si è svolto il 16 giugno quello che ci apprecia quello che ci apprestiamo a realizzare oggi il successivo è il 21 luglio al quale è già possibile registrarsi su eventi pa e in pianificazione che verrà realizzata a settembre per concludere questo questo ciclo di webinar il webinar sono realizzati come attività del progetto informazione formazione per la transizione digitale e per l'attuazione del progetto italia login la casa del cittadino che formazione realizza per per conto di agite l'obiettivo del progetto è quello di migliorare la conoscenza e le opportunità offerte dall'utilizzo dei servizi digitali che le pubbliche amministrazioni possono mettere a disposizione dei cittadini quindi i destinati di queste attività sono sia le pubbliche amministrazioni che erogano i servizi con l'obiettivo che possano migliorarli sempre più sia i cittadini che in questo modo possono acquisire la consapevolezza di quali sono le opportunità dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni il ciclo di webinar il primo il primo webinar che si è svolto il 16 giugno trattava dei metadati della qualità dei metadati per una migliore fruibilità dei dati chi non chi l'avesse perso ha la possibilità di rivederlo perché il webinar registrato è disponibile nella pagina del webinar su eventi pia e su eventi pia verranno promossi e pubblico promossi i prossimi webinar e verranno pubblicati i materiali i materiali relativi il webinar di oggi si focalizza sulla sull'interoperabilità tra i cataloghi e il catalogo rndt il catalogo dati.gov.it e quindi sul profilo di metadatazione che consente questa interoperabilità fra i cataloghi gli interventi che si susseguono sono di Gabriele Ciasullo per l'agenzia per l'italia digitale, Andrea Perego che è l'editor del profilo geodicata 2.0 e Antonio Rotundo dell'agenzia per l'italia digitale che farà un approfondimento sulle modalità di interoperabilità tra i due cataloghi rndt e dati.gov.it. Noi ci auguriamo che questo webinar possa essere utile per voi quindi vi chiediamo di partecipare, di segnalare eventuali domande nella chat che poi noi proporremo ai relatori. A questo punto chiedo a Gabriele di attivare la sua webcam e gli cedo la parola per iniziare questo webinar. grazie Gabriele. Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie, grazie per la partecipazione. Quindi come avevo anticipato Sabrina oggi siamo sempre sul tema di dati territoriali e in particolare parliamo di interoperabilità. Interoperabilità tra cataloghi perché Agit come sapete gestisce, passo direttamente alla prima slide, gestisce in base a diverse normative, gestisce il catalogo nazionale dei dati geografici che risponde al dominio geodadi.gov.it e quindi dove vengono documentati i dati territoriali di come definiti dall'articolo 59 del CAD e i relativi servizi, servizi di rete, servizi di networking, download, visualizzazione, campo di coordinate. Poi gestisce il catalogo nazionale dei dati aperti che risponde al dominio dati.gov.it dove sulla base delle norme di ricevimento poi vedremo anche brevemente l'articolo di riferimento dove sulla base delle norme di ricevimento della direttiva PSA e Public Sector Information appunto la policy dei dati aperti prevede appunto questo sistema, questa infrastruttura per agevolare la ricerca dei dati aperti resi disponibili dalle amministrazioni. Nel mondo dell'informazione geografica noi abbiamo lavorato tenendo conto di ciò che avveniva in Europa ed ecco che l'utilizzo dello standard di Cattarpia è stato per noi un elemento molto importante e abbiamo potuto utilizzare questa specifica definita in Europa e poi con l'intervento successivo di Andrea vedrete come è nata, come si è sviluppata abbiamo potuto utilizzare questa specifica e implementarla in Italia per far sì, per far dialogare questi due cataloghi perché evidentemente c'è una domanda di fondo ovvero sia i dati geografici aperti, come vengono trattati. Per rispondere a questa domanda, a questa esigenza, questo standard è stata la chiave di volto, la chiave che ha consentito appunto di garantire una corretta ed efficace attuazione di documentazione del dato geografico aperto sia con riferimento al catalogo dei dati geografici sia con riferimento al catalogo dei dati aperti. E questo lo vedremo poi nel corso degli interventi successivi. Poi Agile svolge un'attività per quanto riguarda i data model, la definizione di data model noi da tempo siamo impegnati nel mondo di informazione geografica e in certo qual modo siamo tra virgolette custodi delle specifiche sui dati geografici che sono stati definiti qualche anno fa, sono disponibili, sono raggiungibili sul portale dei geodati e ultimamente insomma abbiamo con le amministrazioni interessate, con le amministrazioni competenti per dominio abbiamo potuto definire il modello dati del SINFI, ovvero il Sistema Informativo Nazionale Federale delle Infrastrutture, gestito dal MISER ma basato sul modello dati coerente con le regole nazionali nel mondo dell'informazione geografica, in particolare i database geodopografici e coerente con le regole INSPIRE riguardante quelle tipologie di informazioni. Lo stesso abbiamo fatto con Enea per la gestione dell'illuminazione pubblica, anche qui noi abbiamo realizzato un data model coerente con le regole nazionali e coerente con le regole INSPIRE sulla base delle esigenze che appunto Enea ha messo in campo e noi abbiamo tradotto queste esigenze per la definizione di questo data model. Quindi l'abbiamo fatto con le amministrazioni titolari del dominio e oggi queste due infrastrutture sono due realtà che diciamo hanno due testimonianze di una interoperabilità concreta effettiva, non diciamo dal punto di vista concettuale, ma concreta, effettivamente realizzata e gestita poi dalle amministrazioni competenti come è giusto che sia sostanzialmente. Poi altre attività che noi poniamo in campo per quanto riguarda appunto la questione dei registri, ovvero sia per la gestione dei vocabolari controllati. È evidente che nelle nostre attività il tema interoperabilità racchiude sempre un'importanza particolarmente rilevante e quindi questo sistema di registra anche in questo caso preso in prestito realizzato sulla base di quanto sviluppato nell'ambito europeo in particolare da GRC nell'ambito del work program di AISA e anche in questo caso noi abbiamo ritenuto opportuno introdurre formalmente questo strumento che ci potesse consentire di gestire questa esigenza di avere delle estensioni di vocabolari rispetto a vocabolari inspired. Tant'è che noi con questo sistema di registri siamo federati con il sistema di registro europeo e per cui possiamo gestire le esigenze nazionali rispetto a quelle diciamo formali, ufficiali ed europee. Poi abbiamo anche un'attività di sviluppo delle ontologie vocabolari controllate in particolare su altre tematiche non geografiche, in particolare diciamo per quanto riguarda abbiamo fatto un lavoro con i finanziamenti PON del progetto generale Italia Login per quanto riguarda appunto gli obblighi della rasparenza che è un'attività molto rilevante che appunto diciamo è attualmente presente nell'ambito del sistema di ontologie che ha in qualche modo messo in piedi nel corso degli anni. Dicevo i punti cardini dell'attività che oggi ci riguardano appunto parlando di interoperative dei cataloghi, le due normative di riferimento per quanto riguarda quindi il catalogo dei dati aperti diciamo che la norma assegna ad Agid attualmente è l'articolo 9 del decreto legislativo 36 2006 dove si evidenzia due aspetti, uno che è la finalità di ricerca, quindi i cataloghi servono per cercare risorse disponibili nelle amministrazioni che gesticano quelle stesse risorse naturalmente. Poi l'altro aspetto molto importante è il termine riutilizzo, perché in effetti stiamo parlando di policy di open data e quindi dove il riutilizzo costituisce una fase essenziale dell'applicazione di questa policy, cioè non basta soltanto rendere i dati disponibili ma bisogna guardare al fatto che questi dati possano essere e poi vengano essere effettivamente riutilizzati in particolare per creare sviluppo economico, ma questo lo vedremo un attimino più avanti. Lo stesso dicosi per quanto riguarda i dati territoriali, la gestione del catalogo dei dati territoriali nasce dall'articolo 59 del CAD, anche in questo caso è previsto appunto il principio in base al quale esiste questo catalogo è appunto quello di agevolare la ricerca in questo caso dei dati territoriali non solo aperti ma di tutti e poi qua nasce quello che poi vedremo più avanti l'esigenza appunto di come gestire i dati geografici aperti, quindi alla base di questo teorema che in qualche modo ci ha consentito poi di implementare e diciamo dare corso allo standard geodicata P e quindi garantire interoperabilità tra i due cataloghi. nel frattempo appunto sul mondo dei dati aperti un richiamo importante appunto quello che ci viene dall'agenda digitale europea laddove in uno dei pilastri fondamentali, quello relativo al digital single market era previsto appunto un'azione specifica, apertura dei dati pubblici per il loro riutilizzo, quindi anche in questo caso è molto chiaro, è molto evidente questo aspetto del riutilizzo e quindi l'obiettivo che si poneva all'agenda digitale europea, che adesso insomma è la cui azione poi trova poi sbocco negli ulteriori programmi europei, l'ultimo insomma in ordine di tempo è il DEP che dovrà partire, sta in partenza in questo ultimo periodo. L'obiettivo quindi è di creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e quindi che possano contribuire alla crescita economica, quindi alla creazione anche di lavoro. Quindi è molto evidente il legame tra politica di open data e il riutilizzo per finalità economiche e riutilizzo per finalità commerciali, tant'è che nella direttiva PSI che si basa non tanto alla prima del 2003 dove c'era solo un primo approccio all'idea dei dati della pubblica amministrazione ma la seconda direttiva PSI, quella del 2013 recepita poi nel 2015, dove si dà sfogo, diciamo si dà ampia possibilità di manovra ai paesi comunitari per lo sviluppo delle politiche in materia di open data, perché appunto sulla base di quello che era in quanto in modo previsto in quell'azione che abbiamo visto dell'agenda digitale europea, l'esigenza, la volontà era quella di creare valore economico attraverso gli open data. E questa non a caso nelle varie definizioni, nell'articolato sia della direttiva e quindi poi naturalmente anche nella norma di recepimento, è sempre stato molto forte l'accento, riutilizzabili a fini commerciali. Quindi le pubbliche amministrazioni, queste insomma ci ammettono, provvedono affinché i documenti in cui si applica il decreto legislativo di recepimento, in questo caso il decreto legislativo di recepimento della direttiva, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, secondo le modelle app previste. Quindi è sempre molto forte questo accento su questa tematica, perché appunto l'intendimento è non solo quello di principio generico di trasparenza, dove ci sono poi tutta una serie di norme che gestiscono davanti a partire dalla FOIA, dal decreto legislativo 33, sono tutte queste norme che riguardano la trasparenza in sesso stretto. Qui si voleva dare un accento molto particolare appunto alla finalità di crescita economica che poteva in qualche modo essere generata attraverso i dati della pubblica amministrazione. La stessa definizione di utilizzo è molto evidente è molto evidente che viene ribadito con il concetto delle finalità commerciali come è molto evidente il tema, che quindi si apre lo scenario ad un'altra polisi sui dati della pubblica amministrazione. Lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo, ma in questo caso parleremo di condivisione dei dati tra pubblica amministrazione per finalità istituzionali, che è un altro delle polisi fondamentali sui dati della pubblica amministrazione per puntare all'efficacia dell'attività amministrativa, per puntare a delle risultanze che in qualche modo sia di interoperabilità, ma sia anche di non sovrapposizione, non duplicazione di dati tra le pubbliche amministrazioni e naturalmente per agevolare lo scambio dei documenti tra pia stesse ed evitando nel contempo di richiedere dati al cittadino, dati di cui la pubblica amministrazione è già in possesso. Quindi qua troviamo anche un forte riscontro del principio Mansolli, che è un altro dei principi insieme a quello di interoperabilità che in qualche modo ci consente e diventa un obiettivo delle nostre azioni che hanno in qualche modo finalizzato appunto alla interoperabilità tra i cataloghi del geodati e il catalogo datico WIT. Un accenno, i dati di tipo aperto sono ben definiti dall'articolo 1,1 lettera LTER, diciamo del CAD, dove in qualche modo dalla definizione dei dati di tipo aperto si evince appunto la sussistenza di questi tre requisiti, quello giuridico, quello tecnologico e quello economico. Quindi insomma da questi tre requisiti la coesistenza di questi tre requisiti genera appunto i dati di tipo aperto. Quindi gli open data sono quei dati che rispondono a questi tre requisiti. I dati geografici naturalmente è una particolare tipologia di dati che al di là poi della sua rilevanza che adesso vedremo, che naturalmente per potersi definire dati geografici aperti chiaramente devono rientrare in questa definizione prevista dal CAD e rientrano in questa definizione prevista dal CAD. Da uno sguardo, perché qui torna ancora una volta molto attuale, ma è già stato successo, diciamo, è già stato evidenziato anni prima la rilevanza dei dati geografici nel mondo dell'open data, ma in questo caso con questa ultima direttiva che in corso di recepimento dovrebbe essere recepita entro il 17 luglio. L'ultima direttiva sui dati aperti, dove non solo l'Europa ha voluto poi anche dargli un nome specifico, direttiva relativa all'apertura dei dati e all'utilizzo dell'informazione del settore pubblico, quindi proprio molto specificatamente orientata alle policy di open data. Quindi questa direttiva del giugno 2019, attualmente in corso di recepimento, rega alcune novità rispetto al passato, quindi una più ampia e dettagliata esposizione dei dati per i quali la direttiva trova applicazione, l'estensione dell'ambito dell'applicazione della direttiva stessa, quindi l'estensione della policy di open data a delle imprese di servizio pubblico, in particolare per quanto riguarda i settori del trasporto, dell'acqua e dell'energia, eccetera. Una più articolata disciplina delle procedure per il trattamento delle richieste di utilizzo, perché in effetti l'open data si baserebbe anche sulle richieste di utilizzo, non solo, quindi un'azione proattiva dell'amministrazione di rendere disponibili i dati e esporli sui sprovi siti web e rendere disponibili a tutti, ma ci sta anche la possibilità ed è disciplinata. Lo era già prima, adesso è stato ulteriormente rafforzato questo concetto nell'ultima direttiva, ma sottolineo è già così, già dal 2015 sostanzialmente, c'è questa modalità di richiesta dei dati da parte degli interessati alle amministrazioni titolari, le quali poi hanno dei tempi, una procedura specificatamente prevista per dare riscontro alle esigenze dei richiedenti. poi c'è una particolare attenzione ai dati in tempo reale, ovvero ai dati dinamici, e poi l'estensione ai dati finanziati con fondi pubblici, riportato nella direttiva c'è una definizione ben precisa, ben chiara dei dati dinamici, poi ci potrebbe essere qualche dubbio, ma sicuramente non ci sono dubbi per quanto riguarda i dati dei sensori, che sono sicuramente dati dinamici. E anche qui c'è un richiamo ai formati disponibili, dove appunto i dati dinamici vengono messi in evidenza e devono essere resi disponibili, possono essere resi attraverso API, ma nel caso anche tramite un download in blocco, quindi insomma attraverso uno scarico dei dati non necessariamente tramite API. Un altro elemento di particolare importanza, e qui siamo insomma alla fase dove il mondo dell'informazione geografica viene posto in evidenza, queste serie di dati di elevato valore. qua la direttiva anche qui è molto chiara, le serie di dati di elevato valore non vengono individuate dai paesi membri, non vengono individuate da qualcuno, insomma in base ad una norma nazionale, ma è previsto un atto di esecuzione, quindi un atto europeo, dove viene stabilito l'elenco di queste specifiche serie di dati, tratti appartenenti a queste macro categorie elencate nell'allegato 1 della direttiva stessa. Quindi non è che ci sta un'azione da qualche parte per poter definire questi dati di elevato valore, ma vengono definiti a livello europeo attraverso una procedura che si chiama di comitologia o comitatologia. Anche qui c'è una definizione di questi dati di elevato valore, anche qui c'è un approccio che dice che questi dati di elevato valore vengono messi a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente tramite API o nel caso tramite download di blocco, la stessa stequa come i dati dinamici. Naturalmente nelle declaratorie, nelle premesse della direttiva c'è un richiamo a questa esigenza sui dati di elevato valore e quindi ha un'esigenza di coordinamento tra le varie politiche sui dati. E ancora una volta qui la necessità di interagire, di garantire un'interoperabilità tra i cataloghi, in particolare questo per quanto riguarda appunto il tema della metadatazione di cui Agid è responsabile. E quindi anche questo è un elemento per noi di particolare rilevanza da cui prendiamo le mosse per lavorare appunto sull'applicazione dello standard del CEO di Cattapì come abbiamo fatto. Questo è un accenno sulla procedura di comitato, come è gestita a livello normativo, a livello europeo. Volevo mettere in conclusione un accenno su questo documento di strategia europea per i dati, dove sono evidenziate delle criticità a cui bisogna far fronte, a cui l'Europa chiede di far fronte nei prossimi anni. E tra cui il tema dello squilibrio in termini di potere di mercato e il tema di governanza dei dati penso che siano quelle più significative, quelle criticità più significative a cui bisogna in qualche modo ottemperare. Gli squilibri in termini di mercato significa che naturalmente inondando il web di una serie di dati è evidente che noi dobbiamo chiaramente favorire l'accesso alle piccole e medie imprese perché evidentemente di fronte ad una mole enorme di dati magari sono avvantaggiate le major, quindi non faccio qualche nome ma insomma li conosciamo tutti, che avendo risorse tecnologiche, economiche, magari possono utilizzare al meglio i dati che vengono messi a disposizione, non vengono messi a disposizione ma fuori di tutti, però è chiaro che il piccolino che ha meno potenzialità operative risulta sbattaggiato in tutto questo. Altro tema specifico, secondo me molto importante, è la governance dei dati e sulla base di questo di questo aspetto nel definire appunto, insomma nel proporre un'azione per quanto riguarda la definizione della strategia italiana dei dati abbiamo in qualche modo voluto evidenziare la necessità di creare un organismo nazionale per la gestione e il coordinamento dei dati in Italia, quindi questo organismo dovrebbe essere composto da una serie di attori nazionali, istituzionali, diciamo che in qualche modo devono guardare un po' tutti gli aspetti dei dati per quanto riguarda l'aspetto giuridico, economico, sociale, gli impatti, le normative specifiche, quindi tutta una serie di attività che potrebbero essere gestite in modo adeguato ed opportuno da un nucleo ben determinato che opera quotidianamente su queste tematiche con le amministrazioni titolari dei dati che di volta in volta è oggetto di attenzione. Io vado alla conclusione, grazie per la partecipazione e poi ci saranno eventualmente delle domande a cui eventualmente potremmo rispondere, non so se c'è già qualche cosa. Grazie Gabriele, no ancora non sono arrivate domande, quindi io chiederei ad Angela Perego di attivare la sua webcam, così abbiamo anche il suo intervento e vi ricordo, ricordo a tutti i partecipanti comunque che se volete porre delle domande potete utilizzare la chat e poi i relatori risponderanno successivamente. Grazie Andrea. Ok, grazie Sabrina e grazie per l'invito a questo webinar. Buongiorno a tutti, Gabriele è già introdotto in parte GeoDKTP, quindi sono qui per fornire un po' più di dettagli, specialmente perché una nuova versione è stata pubblicata circa un anno fa e quindi c'è stata un'evoluzione, almeno in questo ambito. Passando alla prima slide, ok. Diciamo che lo scopo principale di GeoDKTP è già stato introdotto da Gabriele, è stato sviluppato per essere un ponte tra, diciamo, il mondo dei dati geografici e in particolare l'infrastruttura Inspire e il mondo degli Open Data, che hanno due piattaforme diverse e usano standard differenti e tecnologie differenti. Quindi in sostanza quello che è stato fatto è di cercare di fornire una rappresentazione dei metadati geografici che seguono le metodologie e le tecnologie del semantic web e nel momento in cui l'intenzione era quella di sviluppare un sistema per garantire la possibilità di condividere metadati geografici tra le piattaforme Open Data e quelle geografiche, che si è utilizzato uno standard di riferimento chiamato DICAT-P, infatti il nome GeoDICAT-P deriva da questo, che sostanzialmente è un profilo di metadati derivato da uno standard internazionale, il Data Catalog Vocabulary del V3C, conosciuto come DICAT, che attualmente è sostanzialmente utilizzato a livello europeo come standard per l'interscambio di metadati tra portali gestiti dagli Stati membri. Il lavoro che ha portato a DICAT-P è stato sviluppato nel contesto del programma AISA, è un programma che è iniziato nel 2016 e si è concluso nel 2020, perché adesso sostanzialmente è confluito all'interno del DEP, cioè del Digital Europe Programme, Gabriele ha già menzionato questo programma. E un altro punto che è importante sottolineare è il fatto che GeoDICAT-P è conforme, almeno a livello concettuale, con il regolamento delle linee guida Inspire sui metadati. Quindi sicuramente l'implementazione è diversa, si usano diverse tecnologie, però in sostanza le informazioni che sono contenute all'interno dei metadati Inspire, almeno nel sotto insieme di riferimento, sono mantenute all'interno di GeoDICAT-P. Questo vuol dire che potenzialmente GeoDICAT-P permette di essere compatibili con Inspire, però soltanto a livello concettuale. Per quanto riguarda il programma AISA, adesso io non so se lo conoscete, comunque si tratta di un programma che ha finanziato lo sviluppo di strumenti, soluzioni, metodologie e tecnologie per facilitare l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni. Qua potete vedere alcuni dei prodotti che sono stati sviluppati. Una cosa importante da tenere presente è che GeoDICAT-P fa in realtà parte di una famiglia di specifiche, una è DICAT-P, da cui GeoDICAT-P sostanzialmente deriva, che sono state utilizzate anche a livello europeo, anche in Italia, quello che vengono chiamati core vocabularies, quindi vocabolari che permettono di descrivere caratteristiche e risorse che vengono impiegate alla pubblicizzazione come persone, indirizzi postali, organizzazioni, che sono stati impiegati a livello europeo e sono integrati, quindi sostanzialmente non sono specifiche che stanno da sole, ma cercano di riutilizzare il più possibile l'uno con l'altro, in modo da permettere sostanzialmente di avere una migliore integrazione dei dati anche quando si riutilizzano a livelli diversi, quindi in questo caso parliamo di metadati che permettono di utilizzare anche altri vocabolari che sono stati utilizzati e sviluppati per scopi specifici. La funzione agli obiettivi di GeoDICAT-P, allora in primo luogo GeoDICAT-P non intende essere un sostituto rispetto all'attuale implementazione di Inspire, almeno per quanto riguarda i metadati. in sostanza lo scopo era quello di fornire una rappresentazione alternativa e armonizzata dei metadati di Inspire. Diciamo che uno dei motivi per cui è stato sviluppato, questo c'era qualche anno fa, vi darò più dettagli nei prossimi minuti, è perché da partire del 2014 in Europa molte organizzazioni noi abbiamo cominciato a sviluppare delle rappresentazioni compatibili con le tecnologie Open Data dei metadati geografici e queste rappresentazioni erano non allineate, nel senso che ognuno trasformava i metadati geografici in metadati che avevano campi diversi, quindi c'era un problema di interoperabilità, nel senso che nel momento in cui i metadati geografici erano trasformati in un formato compatibile con quello che i cataloghi degli Open Data erano in grado di processare, sostanzialmente si perdeva l'interoperabilità che invece era presente con i metadati Inspire. E quindi in sostanza la funzione primaria di Geodicata P è di fornire la possibilità di effettuare ricerche e accedere a dati Inspire indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata, nel senso che facilitando la possibilità di condividere i metadati in piattaforme diverse e in particolare nel contesto specifico riguarda la possibilità di condividere e pubblicare metadati geografici su portali che non sono specifici rispetto al dominio, in questo modo è possibile effettuare ricerche e individuare dati geografici anche in piattaforme che non sono dedicate specificamente a loro. In questo modo si rende anche più visibile questo ecosistema di dati che generalmente era limitato a specialisti e richiedeva competenze specifiche per poter essere utilizzate. Geodicata P, almeno nella sua prima versione, è stato sviluppato e pubblicato nel 2015. Oltre alla specifica, quello che è stato fatto è stato di sviluppare in parallelo una implementazione di riferimento che permettesse di convertire in maniera automatica i metadati che seguono gli standard dei metadi geografici, quindi Inspire e lo standard ISL 1915 nel formato Geodicata P. Nel momento in cui è stato sviluppato questa specifica è stata anche condivisa con organizzazioni che sviluppano standard, in particolare con i V3C e OGC. L'intenzione era quella di avere un ulteriore review, quindi un'ulteriore analisi del lavoro fatto per verificare se c'era qualcosa che probabilmente doveva essere modificato e per consolidare la specifica, ma anche con l'idea di contribuire i problemi che avevamo individuato nel momento in cui avevamo cercato di utilizzare tecnologie non geografiche per rappresentare i metadi geografici. Questo riguardava informazioni specifiche che solitamente sono incluse nei metadi geografici, pensiamo alla risoluzione spaziale oppure all'uso di coordinate per indicare coperture spaziali o anche un aspetto che nei metadi geografici è molto importante che riguarda la qualità dei dati. La specifica una volta rilasciata è stata adottata a livello europeo da pubbliche amministrazioni, in particolare regionali e nazionali, un caso per esempio è Italia, penso che Antonio nella prossima presentazione vi darà più dettagli, ma anche da progetti europei e piattaforme software. Per esempio SICAN supporta almeno parzialmente GeoDKTP e è in corso l'integrazione di GeoDKTP in GeoNetwork e è sostanzialmente l'equivalente di SICAN per metadi geografici. I progetti europei hanno utilizzato GeoDKTP ma hanno anche sviluppato delle estensioni che si applicano magari ad applicazioni specifiche come l'ambito dei trasporti e ci sono esempi di estensioni a livello nazionale come quella italiana. Diciamo che l'impatto maggiore nell'utilizzo di GeoDKTP si può vedere anche per come è stato utilizzato a livello europeo, in particolare nell'European Data Portal. L'European Data Portal è un catalogo che pubblica metadati raccolti dai cataloghi operati dagli stati membri, quindi in sostanza svolge il ruolo di una sorta di hub con l'obiettivo di fornire un singolo punto d'accesso per tutti i dati pubblicati dalle amministrazioni in Europa. Quello che viene pubblicato nell'European Data Portal riguarda anche i metodi geografici, quindi sostanzialmente tutti i metodi geografici che sono disponibili attraverso l'European Data Portal sono stati pubblicati utilizzando come specifica di riferimento GeoDKTP. Quindi tutto quello che trovate adesso sull'European Data Portal che riguarda metodi geografici è sostanzialmente un'implementazione della specifica GeoDKTP. Per avere magari più dettagli rispetto alle esperienze in Europa vi posso consigliare magari di verificare le presentazioni e i video che sono disponibili per un webinar che è stato ottenuto nel 2019 in cui sono state presentate almeno alcune implementazioni, quella italiana per esempio ma anche quella belga e c'è anche un sommario rispetto alle attività relative a GeoDKTP all'interno di organizzazioni che sviluppano standard come V3C e OGC. Una cosa da tenere presente e che forse può spiegare un attimino anche l'impiego di GeoDKTP come finora ho indicato sono i criteri di progettazione. Allora, quando è iniziato lo sviluppo di GeoDKTP il primo problema che si è posto è di capire quale doveva essere il sottoinsieme di metadati o di elementi all'interno degli standard di riferimento, quindi parliamo di Inspire e dell'ISO 1915 che doveva essere tenuto in considerazione. Il problema è che questi standard sono molto ampi e quindi bisogna capire qual era la soluzione più efficace anche perché l'idea era di sviluppare una specifica in tempi diciamo così ragionevoli e cercando il più possibile di coprire almeno i metadati che venivano più utilizzati tra quelli pubblicati a livello europeo. Quindi quello che è stato fatto è stato di individuare come sottoinsieme di riferimento tutti i metadati Inspire tranne quelli che sono specifici di temi particolari all'interno di Inspire, quindi quelli che vengono utilizzati da tutti i metadati e poi quello che è chiamato il core profile di ISO 1915 che è un sottoinsieme che in pratica raggruppa i metadati di maggior uso. Una cosa importante da dire è che questo lavoro è stato uno sforzo collettivo, quindi la Commissione europea ha coordinato il lavoro però in realtà la specifica è stata sviluppata da esperti che hanno partecipato volontariamente al gruppo e che rappresentavano stati membri e organizzazioni di qualsiasi livello, quindi locali, regionali e nazionali. Quindi in sostanza quello che abbiamo in Geodicata P è un riflesso degli requisiti identificati a livello europeo per la realizzazione di metadati. Un altro aspetto da tenere presente, una cosa che era fondamentale, è di limitare il più possibile l'impatto sui sistemi esistenti perché come dicevo precedentemente i metadati geografici utilizzano una piattaforma completamente diversa rispetto a quella usata per gli open data, usano standard, linguaggi e tecnologie differenti, quindi il problema che si era posto è, noi possiamo anche sviluppare questa specifica però il problema è che dobbiamo capire come si può implementare nell'infrastruttura esistente senza creare, diciamo così, un impatto negativo. Quindi in sostanza l'obiettivo era quello di fornire un'implementazione di riferimento che potesse essere impiegata al di sopra dell'infrastruttura esistente per trasformare i metadati geografici che seguono appunto gli standard Inspire ESO 1915 nel formato GDKT. E l'implementazione di queste regole di trasformazione è stata fatta con un linguaggio che non è vincolato a una specifica tecnologia, quindi lo vedete qui XSLT, che in pratica può essere impiegato utilizzando sostanzialmente qualsiasi linguaggio di programmazione. Passando alla nuova versione, il motivo per cui è stata sviluppata è che dal 2015 al 2020 molte cose sono accadute e una di queste è stata che gli standard di riferimento di GDKT, in questo caso parliamo di DKT e del vocabolario relativo che è lo standard UTC chiamato data catalogo vocabulario, sono cambiati. In particolare hanno integrato aspetti che erano di solito specifici dei metadati geografici, uno di questi per esempio è la possibilità di descrivere servizi o API all'interno di un catalogo Allora, questa nuova versione di GDKT-P è stata pubblicata nel dicembre 2020 ed è compatibile con la versione precedente ed è anche allineata con l'ultima versione delle linee guide Inspire sui metadati. Come dicevo, il motore principale è stato quello di allineare GDKT-P con le nuove versioni di DKT-P e del WTC data catalogo vocabulary e una differenza sostanziale è che prima di tutto estende la specifica originale definendo termini che permettono di descrivere in maniera più accurata alcune formazioni che sono specifiche dei metadati geografici come la risoluzione spaziale o i ruoli delle organizzazioni come quello di chi pubblica il dato, chi è il data curator, chi è l'autore e così via. Inoltre, mentre nella prima versione quello che era stato definito era sostanzialmente solo l'insieme di regole di trasformazione nella nuova versione è stato sviluppato anche un vocabolario RDF che descrive GDKT-P e questo perché quello che è stato verificato una volta che la prima versione di GDKT-P è stata pubblicata è che c'erano alcune organizzazioni che volevano utilizzare GDKT-P direttamente cioè quindi non soltanto per trasformare i metadati geografici esistenti in un formato compatibile con quello di cataloghi Open Data ma volevano utilizzarlo come diciamo formato originario dei metadati che intendevano sviluppare. Allora, ho incluso questo grafico anche, so che è sostanzialmente illegibile però questo vi dà diciamo un'idea di qual è la struttura dello schema dei dati definito in GDKT-P potete trovare questo grafico e lo potete anche ingrandire nella specifica GDKT-P quindi lì potrete anche vedere più nei dettagli quali sono classi, proprietà utilizzate. Le modifiche che sono state effettuate sono documentate sempre nella specifica c'è questo chiamato changelog dove vengono indicate le modifiche principali e sarò felice poi di darvi più dettagli nel caso sia di vostro interesse però sostanzialmente sono quelle che ho indicato precedentemente. e trovate anche l'elenco di termini che sono stati deprecati e sostituiti da nuovi termini quindi questo fornisce anche a chi utilizza la nuova specifica un modo di capire come eventualmente devono aggiornare i propri metadati nel caso seguano la specifica precedente. Concludo indicandovi sostanzialmente quali sono i criteri che verranno utilizzati per le nuove versioni allora diciamo che c'è una modifiche di routine che riguardano l'eventuale pubblicazione di nuove versioni di GDKT-P e di GDKT quindi visto che GDKT-P è basato su queste specifiche nel caso vengano aggiornate anche GDKT-P dovrà essere aggiornato se necessario. E un'altra modifica diciamo così di routine riguarda eventuali nuove pubblicazioni delle linee guida di Inspire sui metadati. C'è anche una discussione all'interno del gruppo rispetto alla possibilità di allineare GDKT-P con la nuova versione dello standard ISO 1915 perché quando è stato sviluppato GDKT-P lo standard di riferimento era la versione del 2003 quindi quella che anche attualmente è la maggiormente implementata. però nel 2014 c'è una nuova versione dello standard pubblicata e quindi già cominciano ad essersi metadati che seguono la specifica nuova dello standard ISO 1915 quindi c'è questa possibilità. Però c'è in realtà un punto che vorrei sottolineare e che probabilmente è quello più importante. GDKT-P non è un sforzo diciamo così collettivo, è uno sforzo della comunità dei dati geografici che utilizza GDKT-P o che vuole utilizzarlo per pubblicare metadati geografici su cataloghi open data. quindi la cosa più importante per quanto riguarda lo sviluppo di GDKT-P è raccogliere sostanzialmente contributi da utenti e implementazioni esistenti. quindi se per caso voi lavorate in questa area e avete utilizzato GDKT-P, avete requisiti specifici che non sono supportati dallo standard esistente invito tutti a contribuirli al gruppo in modo che possano essere tenuti in considerazione. e il lavoro del gruppo si svolge su Github quindi chiunque sostanzialmente può utilizzarlo, una volta che viene creato un issue questo viene documentato, viene processato e c'è una procedura che viene seguita per gestire tutte le richieste. comunque diciamo che il gruppo è molto aperto a raccogliere qualsiasi suggerimento che possa essere contribuito. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e sarò felice di rispondere alle vostre domande nel caso ci sia qualcosa su cui volete avere più dettagli. Grazie. Grazie, grazie Andrea. Chiedo ad Antonio di attivare la webcam e prepararsi al suo intervento. C'è soltanto una domanda per adesso riguardo all'implementazione del profilo GDKT-P per l'amministrazione regionale ma direi che possiamo rispondere al termine dell'intervento di Antonio in maniera tale da avere una visione insieme su tutti gli aspetti. Grazie Antonio, ci do la parola. Grazie Sabrina, buongiorno a tutti. Allora, con quest'ultima parte del webinar vediamo come declinare quanto detto da Gabriele e Andrea a livello operativo e quindi ci occupiamo dell'interoperabilità tra due cataloghi gestiti a livello nazionale come diceva Gabriele da Aged, quindi dati aperti e dati territoriali. Per coloro che hanno partecipato al primo webinar del ciclo, in quel webinar abbiamo parlato anche delle funzionalità di ricerca che vengono offerte dai due cataloghi per quanto riguarda i dati aperti. Nel repertorio, quindi catalogo dei dati territoriali, è possibile cercare i dati aperti basandosi sulla classificazione che è utilizzata in DKT-P che è lo standard per i dati aperti. Nel portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it è possibile cercare i dati aperti basandosi sui cluster tematici definiti nell'ambito Inspire che poi si basano sui temi Inspire. Questo è il risultato ed è il frutto appunto della implementazione di quello che diceva Andrea e Gabriele, cioè dell'implementazione di GeoDKT-P nei due cataloghi nazionali. E questo vediamo poi in queste slide come è stato possibile e cosa viene richiesto, e forse si risponde pure alla domanda di Francesco Leria, cosa viene richiesto alle amministrazioni di fare per allinearsi a questa indicazione, a questo approccio. È stato già detto nelle presentazioni precedenti, i dati aperti e i dati territoriali per quanto riguarda i metadati seguono due standard diversi. di GATAP per i dati aperti e poi noi a livello nazionale abbiamo alcune estensioni rispetto al profilo europeo e quindi abbiamo il profilo nazionale di GATAPT. Per quanto riguarda i dati territoriali, il profilo che è applicato in Italia è il profilo relativo al repertorio nazionale dei dati territoriali che include tutti gli elementi definiti nel core di ISO, cioè il set minimo di metadati che ISO richiede di documentare per dare una descrizione completa del dato e ovviamente include anche i metadati definiti nell'ambito di Inspire, ovviamente anche oltre ad alcune estensioni proprie del profilo nazionale. Sulla base di questi profili le amministrazioni descrivono i propri dati nei due portali, quindi i dati aperti basandosi sul DGATAPT nei dati.gov.it e i dati territoriali basandosi sul profilo Inspire RNDT in RNDT. Per i dati territoriali aperti abbiamo riscontrato in questi anni, credo che in molti casi si continui ancora adesso, che vengono descritti o solo in DGATAPT, in questo caso si perdono diverse informazioni che sono specifiche del profilo di metadati di Inspire RNDT e in più quel dato sfugge al monitoraggio Inspire, quindi al monitoraggio della Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della direttiva Inspire che si basa proprio sui dati presenti nei cataloghi nazionali dei dati territoriali. In altri casi sono documentati lo stesso dataset che è quindi un dato territoriale aperto e viene documentato nei due cataloghi e in molti casi queste descrizioni non sono allineate per cui una volta si aggiorna una descrizione in un catalogo ma non si aggiorna contemporaneamente la corrispondente descrizione in dati.gov.it Capite bene che questo rappresenta una criticità soprattutto per l'utente che poi deve capire quel dato, che cos'è e se effettivamente può utilizzarlo e se effettivamente risponde agli scopi per cui sta cercando quel dato. Proprio per superare queste criticità e grazie alla disponibilità della specifica europea che era stata definita nel 2015 come diceva Andrea, nei vari piani triennali, nei varie versioni di piano triennale che si sono succedute dal 2017 cioè piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono state inserite specifiche azioni per la definizione di una guida operativa per l'implementazione in Italia di GeoDiCATAPI e per l'implementazione vera e propria relativamente all'integrazione dei due cataloghi e l'altro obiettivo che era definito, che era insito in questa azione presente nel piano triennale era che le amministrazioni si dovessero poi adeguare a questo approccio questo per evitare poi, come vedremo dopo, un doppio onere derivante da una doppia descrizione in entrambi i cataloghi e così via. Dicevo che nel fine 2017, proprio come implementazione delle azioni del piano triennale è stata definita una guida operativa, una linea guida per l'implementazione di GeoDiCATAPI in Italia che è attualmente in corso di aggiornamento proprio perché dobbiamo adeguarci all'ultima versione di GeoDiCATAPI, dobbiamo adeguarci all'ultima versione del profilo nazionale di metadati che poi è allineato all'ultima versione del profilo metadati Inspire e ovviamente dobbiamo tenere conto delle esperienze condotte da alcune amministrazioni proprio per garantire questa interoperabilità di cataloghi e che ci servono poi per definire meglio le indicazioni che diamo alle pubbliche amministrazioni per adeguarsi a questo approccio. In questa linea guida quindi è stato definito, sono state definite le regole su come procedere per documentare i dati territoriali che sono contestualmente anche aperti e quindi la regola principale è che quel dato va documentato esclusivamente nel repertorio nazionale che poi provvederà, e lo fa ormai da qualche anno, provvederà a rendere disponibili di quei dati aperti anche nel portale nazionale dei dati aperti attraverso appunto l'implementazione di GeoDKTAP. Perché utilizzare GeoDKTAP? Lo ha detto ovviamente Andrea nella sua presentazione, dal punto di vista operativo diciamo che il set di metadati per i dati territoriali è un set di metadati più esteso rispetto a GeoDKTAP, per cui un sottinsieme dei metadati del repertorio corrisponderà al set definito in GeoDKTAP-T, che poi era il profilo core definito nella versione precedente di GeoDKTAP-P. Tutti gli altri metadati dei dati territoriali definiti nel profilo nazionale che non hanno una corrispondenza con GeoDKTAP-P sono comunque offerte una codifica RDF in modo tale di avere una rappresentazione, come diceva Andrea, alternativa dei metadati di dati e servizi territoriali e quindi nel primo caso, cioè se considero il profilo cosiddetto core, quindi il set di metadati territoriale che ha una corrispondenza con GeoDKTAP-P, quello mi servirà per garantire l'integrazione tra i due cataloghi e quindi rendere disponibili quei dati anche nel catalogo dei dati aperti per la ricerca. Nell'altro caso io ho la possibilità di avere comunque una rappresentazione alternativa di tutto il set di metadati dei dati territoriali. Questa attività ovviamente ha richiesto, come diceva Andrea, un'attività di mapping sia per i singoli elementi di metadati, per cui per ogni metadato relativo ai dati territoriali c'è una corrispondenza dove è possibile, ovviamente con il profilo di KTAP-P, altrimenti è stata definita una codifica RDF ad hoc, basandosi, come diceva Andrea, comunque sempre su vocabolari controllati già esistenti. È stato fatto un lavoro, sempre coordinato nell'attività coordinata da Andrea Perego, anche di mapping tra vocabolari controllati e quindi tra liste di valori, perché come sapete per documentare i metadati dei dati territoriali, viene richiesto in molti casi di fare riferimento o a liste di codice definite nella standard ISO direttamente, oppure nell'ultima versione di Inspire sono stati introdotti alcuni registri, alcuni vocabolari controllati che possono essere utilizzati per documentare quei metadati quando prima quei metadati venivano documentati con un testo libero. Quindi c'è stata questa attività di mapping tra vocabolari, per esempio parlavamo all'inizio della ricerca basata sulle classificazioni dei temi per DKTAP oppure dei temi Inspire per RNDT e quindi ad ogni tema Inspire è stato fatto corrispondere uno o più temi di DKTAP. La stessa cosa è stata fatta anche con altri vocabolari e altre codelists, per esempio quella della frequenza oppure quella che è utilizzata per i formati e questa attività di mapping, così come tutto quello che riguarda l'attività di GeoDKTAP a livello europeo, come diceva Andrea, è disponibile nel relativo repository GitHub di Semic, citato anche da Andrea. Però ecco, una domanda diciamo che ci si pone è come identificare i dati aperti in un catalogo di dati territoriali, catalogo di dati territoriali che come sapete non è solo un catalogo di dati in generale, per cui può includere sia dati aperti che non aperti. L'identificazione viene fatta, ovviamente ci si deve basare sui metadati che vengono forniti dalle amministrazioni titolari e sulla base di questi metadati quelli utilizzati sono le condizioni applicabili all'accesso all'uso, quindi praticamente la licenza che viene indicata nei metadati dei dati territoriali e nelle linee guida noi abbiamo indicato anche di aggiungere eventualmente una parola chiave indichi che è quel dato che si sta descrivendo anche Open Data. Questo è l'approccio poi, anche con il confronto che si fa nell'ambito Inspire, è un approccio che viene eseguito da più stati membri, proprio perché basandosi sulle informazioni presenti nei metadati è l'unico che può garantire comunque una certa identificazione. C'è però una criticità, perché come vedete nell'XML di esempio inserito nella slide, la licenza, al meglio le condizioni di utilizzo possono essere documentate o come testo libero o come indicando l'URI della licenza vera e propria. Fino alla versione precedente delle linee guida Inspire sui metadati e quindi del repertorio, le condizioni di utilizzo venivano documentate attraverso un testo libero, nell'ultima versione si raccomanda di utilizzare comunque un URI che indichi univocamente la licenza. Se si utilizza il testo libero ovviamente diventa molto più difficile fare quell'attività di trasformazione che indicava Andrea dai metadati territoriali ai metadati aperti, proprio perché ci sono delle criticità utilizzando il testo libero che poi sono state evidenziate in questo studio fatto da JRC e cioè che praticamente può esserci delle condizioni d'uso fornite dietro richiesta, perché comunque vengono un testo descrittivo e quindi l'amministrazione descrive come ritiene più opportuno la condizione d'uso. ovviamente una criticità se parliamo in termini e quindi ci riferiamo al contesto europeo e la lingua della licenza per cui un utente di un altro paese ha difficoltà a capire Antonio il microfono dovresti riattivare Antonio Si sente? Mi sentite? Ah scusate Sì grazie Sì stavo dicendo praticamente che utilizzando testo libero per descrivere condizioni di accesso e di utilizzo ci sono diversi ostacoli, diverse barriere, diverse criticità che derivano dal fatto che o non sono indicate chiaramente le condizioni di utilizzo o non c'è comunque un link alla licenza e quindi non è possibile reperire tutte le informazioni sulle condizioni o informazioni non accurate oppure un'ambiguità anche nella terminologia e così via la soluzione a queste come vi dicevo prima è quello di utilizzare degli URI che risolve sia il problema di lingua ovviamente ma anche tutte le altre criticità in quanto nella licenza sono definite chiaramente le condizioni e quindi partendo da questo esempio ho ripreso una slide che abbiamo visto anche nel primo webinar cioè quello di utilizzare e quindi di evidenziare la raccomandazione contenuta nelle linee guida Inspire e di utilizzare o è possibile i vocabolari controllati invece di testo libero c'è un esempio nella slide per quanto riguarda il tema Inspire per cui può essere indicato come testo libero ma può essere indicato anche questo come URI e quindi facendo riferimento al relativo registro pubblicato sempre da Inspire questo tipo di criticità si hanno anche per altri elementi di metadati per esempio se pensate al formato anche quello per Inspire quindi per ISO 1915 e quindi per repertorio è un metadato che per i dati territoriali è possibile indicare come testo libero mentre di Cantatp ovviamente utilizza un vocabolario controllato specifico la raccomandazione di Inspire che però nelle ultime linee guida è solo una raccomandazione è quello di utilizzare appunto un vocabolario controllato in modo anche da facilitare questa attività di trasformazione da uno standard all'altro e proprio in tema di vocabolari controllati e quindi di registri lo accennava Gabriele nella sua presentazione è stato implementato a livello europeo ma anche a livello nazionale un sistema di registri che pubblica i codici di riferimento dei vari elementi utilizzabili nell'infrastruttura Inspire quindi in quello italiano ci saranno le estensioni ai registri definiti a livello di Inspire come previsto dal regolamento Inspire sull'interoperabilità di dati e servizi e proprio il sistema di registri vocabolari controllati sarà l'oggetto del terzo webinar che come diceva Sabrina all'inizio si terrà il 21 luglio sempre a partire dalle 10 e a cui è possibile già registrarsi analogamente alle attività fatte a livello europeo che accennava Andrea anche a livello nazionale abbiamo sviluppato una API che si basa e quindi riusa quella sviluppata a livello europeo estendendola in quanto per esempio nell'API italiana possono essere inserite delle richieste CSV non solo GET ma anche POST oppure possono essere inserite delle richieste REST che si fanno quindi al catalogo dei dati territoriali e l'API praticamente trasforma sulla base dei parametri che vengono scelti dall'utente quindi il formato di output il tipo di trasformazione dopo per il tipo di trasformazione indichiamo se si vuole ottenere il set di metadati solo relativo a DKTP quindi un set minimo di metadati coerente con DKTP oppure il set esteso l'API restituisce praticamente i metadati territoriali descritti e basati su Inspire e RNDT in formato DKTP o GEO DKTP l'estensione è stata necessaria perché come vi dicevo all'inizio noi a livello nazionale presentiamo delle estensioni sia per quanto riguarda il profilo di metadati per i dati aperti che per quanto riguarda il profilo relativo ai metadati territoriali il codice dell'API è disponibile nei repository Agile così come quello dell'API sviluppata a livello europeo è disponibile nel repository indicato da Andrea come funziona l'API? l'utente fa una richiesta quindi può utilizzare direttamente l'API dall'interfaccia RNDT per cui può essere inserita una richiesta CSV sia get che post o una richiesta rest tramite l'endpoint GEODKTP quindi viene restituito un file quindi un record di metadati basato ovviamente sui criteri inseriti nella richiesta rest o CSV un record di metadati che è standard cioè XML o JSON a secondo se è una richiesta CSV o una richiesta rest e poi attraverso l'XSL anche questo basato e che estende quello definito a livello europeo restituisce praticamente i metadati che rispondono ai criteri inseriti nella richiesta RS o CSV nel formato che si è richiesto questa API così come ve l'ho descritta viene utilizzata anche per dati.gov.it cioè dati.gov.it fa harvesting da geodati.gov.it proprio utilizzando questa API il portale fornisce anche delle funzionalità per definire delle richieste rest qualora ovviamente non si abbiano le conoscenze e le competenze per scrivere una richiesta rest per cui un utente può fare una ricerca di metadati dalle funzionalità di ricerca che sono disponibili nel portale quindi impostando i vari criteri che ritiene opportuno e il portale stesso fornisce poi la corrispondente richiesta rest che poi può essere utilizzata nell'API per attivare tutto questo processo parlavo all'inizio delle regole che sono state definite nelle linee guida di geodati di catapi nazionali quelle linee guida noi abbiamo dato anche delle raccomandazioni alle pubbliche amministrazioni italiane perché adottino lo stesso approccio seguito a livello nazionale anche nella gestione dei propri cataloghi locali e nel caso in cui si decida o l'API decida di documentare i dati territoriali di tipo aperto in entrambi i cataloghi locali la raccomandazione che potrebbe sembrare banale ma sulla base delle esperienze di questi anni non lo è è che queste due descrizioni vengano mantenute allineate per cui se aggiorni i metadati nel catalogo geo dovrò aggiornarle preferibilmente in modo automatico anche nel catalogo dei dati aperti e quindi abbiamo ipotizzato e questo forse risponde alla domanda di Francesca Gleria abbiamo ipotizzato due scenari che però non sono esaustivi di possibile colloquio e quindi interoperabilità tra i cataloghi locali e i nazionali con l'adozione dell'approccio che vi ho descritto nelle slide precedenti e che si basano appunto su GDKTAPI se l'amministrazione ha sia un catalogo di dati territoriali che un catalogo di dati aperti ovviamente il catalogo dei dati territoriali deve essere arrestato e quindi i metadati presenti in quel catalogo devono essere raccolti dal RNDT questo perché risponde diciamo alle indicazioni normative derivanti da Inspire e perché come vi dicevo il monitoraggio Inspire si basa sul catalogo nazionale dei dati territoriali potrebbe potrebbe l'amministrazione sfruttare l'API disponibile in geodati.gov .it per ricavare e derivare quindi i propri dati territoriali aperti aperti nel formato nello standard di CataP e quindi pubblicarli nel proprio catalogo open data quindi non deve implementare non deve fare ulteriori implementazioni perché l'API disponibile in geodati consente di avere i web metadati anche nello standard richiesto per i dati aperti ovviamente nella richiesta che quindi nella richiesta che si deve fare a geodati per avere i propri dati territoriali aperti si devono inserire dei filtri che sono quelli che vedete indicati nella slide in quanto licenza e keyword sono quelli che permettono di identificare i dati aperti questo qualora nel catalogo geolocale ci siano anche dati non aperti se ci sono solo dati aperti ovviamente questo è superfluo e poi ovviamente deve essere inserito un filtro relativo all'amministrazione titolare perché è chiaro che la pubblica amministrazione è interessata ad avere solo i propri metadati in formato in nello standard di KTP il catalogo poi open data è arvestato dal catalogo nazionale dati.gov .it e se viene attivato questo processo è chiaro che poi deve essere attivato un filtro dal catalogo open data locale a quello nazionale che escluda i dati geo presenti nel catalogo locale questo filtro ovviamente dipende anche dalla piattaforma che si utilizza per i dati aperti per cui per esempio in SICAN è possibile ci sono delle possibilità di applicare filtri per escludere quello che SICAN chiama organizzazioni per cui si può creare un'organizzazione nel catalogo open data locale che è dedicata ai cataloghi geo e quindi il filtro che verrà esposto a dati.gov è quello di escludere l'organizzazione che è relativa ai dati geo in questo in questo in questo ovviamente poi bisogna valutare sempre perché dipende dalla tecnologia utilizzata dalla piattaforma utilizzata per i dati aperti caso per caso e in questo senso per esempio stiamo anche abbiamo un'interlocuzione un'attività in corso con Regione Toscana che sta implementando l'approccio che vi sto descrivendo e che quindi poi porterà diciamo all'implementazione di geo di catapì anche a livello locale un secondo scenario e una seconda ipotesi è che invece il catalogo geolocale renda disponibili i propri dati aperti nel catalogo open data locale attraverso il riuso per esempio delle piatti geo di catapì ma non è obbligatorio nel senso che si possono utilizzare anche altre piattaforme altri strumenti per esempio Sican consente di fare harvesting da servizi CSV e quindi potrebbe essere utilizzato l'harvester Sican per CSV anche se poi nell'harvester CSV di Sican non è consentito inserire filtri per cui tutti i dati che si rendono disponibili nel catalogo open data locale devono essere tutti aperti per consentire di utilizzare quell'harvester disponibile in Sican però ci possono essere altri strumenti oltre all'API geo di catapì o Sican e poi una volta che i metadati del catalogo geolocale che ovviamente anche in questo caso devono essere pubblicati nel catalogo nazionale sono disponibili nel catalogo open data locale anche in questo caso dal catalogo open data locale deve essere attivato comunque un harvesting attraverso un filtro che è uguale diciamo analogo a quello descritto nella slide precedente un esempio di come funziona questo scenario che vi ho descritto appena adesso è quello che come Italia facciamo verso i cataloghi europei i metadati di geodati.gov .it vengono arvestati e quindi sono raccolti sia dal geoportale Inspire sempre per le solite indicazioni normative che dal portale europeo dei dati data.europa.eu analogamente dati.gov .it è arvestato dal catalogo europeo dei dati data.europa.eu come vi dicevo i metadati di geodati sono raccolti da dati.gov .it proprio attraverso geodicat.p se non ci fosse questo filtro tra dati.gov e data.europa.eu ovviamente ci sarebbe una duplicazione sui dati territoriali aperti italiani perché sarebbero avvestati sia da geodati che da dati.gov.it applicando questo filtro sui dati geo nella slide vedete l'API di DCCAN utilizzata per escludere i dati geo è possibile evitare questa duplicazione di catalogo di dati europeo e questo è come funzionerà e come funziona in alcuni casi per esempio in regione Piemonte come funziona l'esposizione di metadati di dati territoriali dal locale al nazionale io ho concluso grazie 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 Antonio per la presentazione abbiamo raccolto una serie di domande probabilmente ad alcune è già stata data risposta nel corso della presentazione di Antonio però chiedo ad Antonio a Gabriele Andrea di riattivare la webcam rispondere e integrare eventualmente i contenuti alle domande che sono state poste e poi ci avvieremo alla conclusione le domande le trovate allora la prima domanda era quella di Francesca Gleria credo di aver risposto con le slide chiedeva praticamente se c'è un servizio che si interfaccia tra le PA regionale e RNDT per adeguare la GEODKTAPI noi a livello regionale cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo fare attenzione quindi lo dicevo nelle ultime slide praticamente se a livello regionale come il caso credo di non credo di provincia di Trento ma di tutte le amministrazioni regionali se sono disponibili due cataloghi uno per i dati territoriali e l'altro per i dati aperti e questi cataloghi comunque il catalogo dei dati aperti contiene anche gli stessi dati o una parte di dati territoriali che sono documentati nel catalogo regionale dei dati territoriali bisogna interfacciarsi con Agid e quindi con i cataloghi gestiti da Agid facendo in modo che si attivi quel filtro per evitare che dal catalogo dei dati aperti regionali si escludano i dati territoriali regionali aperti descritti già nel repertorio perché arvestati dal catalogo regionale dei dati territoriali si può riusare come dicevo gli strumenti messi a disposizione da Agid poi fa una seconda domanda da geodati a open data solo nel caso in cui non ci sia un geocatalogo locale no anche nel caso in cui c'è un geocatalogo locale si può attivare diciamo l'arvesting verso i cataloghi nazionali facendo attenzione ad evitare di pubblicare i dati territoriali aperti due volte nei due cataloghi non so se è chiaro sicuramente magari un tema non complicato ma comunque attenzione perché occorre diciamo definire delle regole che ci consentono poi di gestire le cose in modo automatico ma una volta impostata poi la regola diventa un percorso in discesa di di come stiamo viaggiando per fare l'aggiornamento alla specifica Geo diretta P2.0 ma questo abbiamo preferito o anche dovuto dare la precedenza all'adeguamento dei dati Geo alle nuove regole per essere allineate alle regole europee di Inspire e quindi abbiamo dovuto dare la presenza a quello adesso chiaramente possiamo procedere anche su questo ambito ma al di là di questo aggiornamento resta l'idea della necessità primaria di un livello organizzativo che sia abbastanza chiaro per tutte le eventuali necessità di dettaglio di chiarimento di come impostare certi lavori naturalmente noi siamo raggiungibili in ogni momento via mail attraverso i punti di contatto ormai noti per cui si potrà sempre attivare dei momenti di condivisione per avere un'adeguata impostazione del lavoro anche a livello locale non abbiamo notato particolari criticità in questo primo periodo di applicazione dello standard anzi abbiamo ritrovato la possibilità di dare evidenza alla tipologia dei dati geografici che racchiude la sua evidenza strategica ormai nota rispettando contemporaneamente entrambe le regole dobbiamo dire che il dato territoriale risponde dal punto di vista del a un framework di interoperabilità già definito a livello di dati a livello di data specification a livello di metadati a livello di trasformazione di coordinate quindi nel mondo Inspire ci sono tutti gli aspetti che agevolano che danno corso alla fruibilità alla standardizzazione dei dati geografici è evidente che per i dati geografici aperti si appliceranno poi le regole della direttiva PSI per quanto riguarda per esempio la tariffazione o per quanto riguarda il licensing o per quanto riguarda le modalità di richiesta dei dati da parte degli utenti interessati quindi è evidente che quel tipo di dati geografici si applica anche ai dati geografici per tutti questi aspetti connessi poi ad un effettivo utilizzo o di utilizzo meglio ancora dei dati geografici aperti quindi diciamo questo è molto interessante la giornata di oggi non so se in particolare c'è un'altra domanda Gabriele Antonio Vicario chiede in questo scenario come si colloca la modalità harvesting verso un nodo locale se la domanda è se il nodo locale è arvestato direttamente dai cataloghi nazionali ovviamente vale quanto abbiamo detto nelle slide se invece c'è tra il nodo locale e i cataloghi nazionali c'è un ulteriore nodo quindi per esempio un catalogo regionale per cui il catalogo ed è il caso per esempio della regione toscana per cui la città metropolitana di Firenze ha un proprio catalogo di metadati geografici viene arvestato dal catalogo open data della regione toscana ovviamente è la regione toscana che poi deve attivare quel filtro per escludere i dati geo verso i cataloghi nazionali quindi diciamo che è il catalogo che si interfa che interagisce con i cataloghi nazionali che deve porre e deve attivare quei filtri di cui parlavamo è chiaro che poi questo approccio per evitare che se il catalogo per esempio regionale ospita diversi cataloghi sia territoriali che aperti è chiaro che poi lo stesso approccio si dovrebbe attivare anche a livello locale per evitare che nel catalogo regionale si abbia la stessa duplicazione che noi abbiamo voluto evitare a livello nazionale e poi c'è Francesco Sisani che chiede se è possibile creare dei brevi video tutorial basati su casi reali potrebbe essere un'idea sulla decisione diciamo poi interverrà Gabriele e poi Francesca Gleria fa un'ulteriore domanda dice da sempre diciamo nelle linee guida open data che lat long quindi latitudine e longitudine sono informazioni che accrescono il valore dei dati in generale i dati descrivono cose eventi flussi che sempre avvengono in un luogo e quindi potenzialmente tutti i dati potrebbero avere una lat long lat lat e long sono sufficienti a definire come geografico il dato la definizione del dato territoriale è appunto quella che ci sia comunque una referenzazione territoriale che può essere sia diretta che indiretta quindi o tramite coordinate o tramite indirettamente per esempio un indirizzo e così via se andate su catalogodati.gov.it proprio perché il metadato originario contiene sempre informazione del bounding box relativo al dataset che si sta descrivendo nel catalogo dei dati aperti trovate sempre che la proprietà spatial che è indicata P è sempre valorizzata perché quelle informazioni nei dati territoriali ci sono sempre e quindi su quei dati è chiaro che c'è il valore aggiunto di avere queste ulteriori informazioni ma su questo tema potremmo anche organizzare come dire un incontro specifico Francesca ci conosciamo da tempo non abbiamo problemati diciamo io invertirei la domanda guarderei dall'altro lato se parliamo di dati che in qualche modo rientrano negli annessi della direttiva Inspire dobbiamo regolarci secondo le regole di spari se parliamo di dataset che non rientrano in quegli annessi dove io eventualmente voglio dargli accrescere il valore aggiungendo queste informazioni di georeferenziazione in qualche modo beh allora posso fare una scelta la scelta più razionale sarebbe quella di inserirli comunque in un catalogo di georiferiti per avere una completezza di informazioni e quindi renderli poi disponibili sui dati aperti attraverso lo standard geodica tappi quindi questo potrebbe essere la risposta a questa domanda perché se sono dataset che comunque rientrano nell'ambito nell'obbida di applicazione della direttiva inspire devono seguire le regole di implementazione della direttiva inspire altrimenti potrei scegliere ma se faccio una scelta di arricchire l'informazione con una georeferenziazione io diciamo non ci penserei due volte ma utilizzerei appunto lo standard di riferimento geografico per la rappresentazione di quei metodi ma naturalmente su questo ci potremmo incontrare in modo più specifico per affrontare l'argomento in modo più dettagliato l'idea di Francesco Sissani mi sembra carina ma come diamo con Sabine possiamo realizzarla in qualche modo nell'ambito di questa di questa attività congiunta che facciamo con Formes per il progetto in base al quale è stato poi reso possibile anche questo ciclo di webinar che non sarà l'unico ci saranno sicuramente altre iniziative sia per quanto riguarda i dati geografici io volevo ringraziare tutti i partecipanti io volevo ringraziare in particolare Andrea Perego per la sua disponibilità per il suo intervento che ci ha dato secondo me un contributo molto importante per chiarire un po' questo aspetto diciamo di questo standard che sembrerebbe prima vista una cosa avusta dal sistema invece no è una cosa perfettamente integrata in un contesto diciamo di strumenti per favorire l'interoperabilità io vi saluto non so se qualcuno vuole intervenire con qualche ultima nota io vi saluto e ringrazio tutti quanti grazie io intervengo solo per ringraziare tutti quanti per la partecipazione i partecipanti e i relatori per questo quadro quadro completo e interessante vi diamo appuntamento per i prossimi webinar nei quali speriamo di ritrovarci grazie a tutti grazie a tutti ciao grazie grazie